No tesoro, è così importante, quanto sto bene oggi veramente, che sto qui a fare il termine di chiuncello, mi sto rilassando, pensando ai momenti passati con Gino Paoli, passando a quei momenti quando scrivemmo, senza fine, tutti i sini hanno, sto vitto, ma non sai proprio che in questo momento sto andando al sole, mi sto facendo anche la pedicure, la manicure, aspetta un attimo che sto arrivando là e vi canto a tutti, tristezza, per favore vai via, anche tu a casa mia, non ti prendere mai, fino a che, aspetta arriviamo là, tesori, come te, ma cosa ti devo dire, Io ti dico che vi saluto, a tutti quanti, ciao Gino, Gino, tu sei Gino, eccolo, cosa bella, ciao tesori, amore per presto, io non resisto, non resisto.